Le differenze tra giorni uguali, do, da studiare, nero, che nero, di mano, di ciliegio esterno. Il 20 settembre gli ho portato un regalo, senza dire niente, me l'ho tolto di mano. Sono le poesie, mi parla di un metodo, e stavo contendo su ciliegio esterno. Povero tra i stergetti e i vestiti per i neri, a pensare se ciliegio esterno, a pensare se ciliegio esterno, a pensare se ciliegio esterno. Guardati bene tu, tu sei sbagliato e fuori moda, i capelli lunghi tu, hai sempre addosso a quel vestito. Guardati bene tu, ma come fai a non sentirti un idiota che ti manda tu, se non mi immagini che stai tu? Ma lui aveva dentro qualcosa che non mi poteva spiegare, come sollievo la pace interiore, il suo paradiso è sul ciliegio esterno. Dopo quel giorno l'ho visto che sembrava un frutto più grande, con gli occhiali sceli, capito dal gusto di un indirizzo, e dalla sua vittura se ciliegio esterno. Il 27 settembre Gianni Sargente ha preso un altro stipendio, una città alla volta, come nel poche sono in tutto un milione e quattrocento e trenta. Il 27 settembre Gianni Sargente ha preso un altro stipendio, Il 27 settembre Gianni Sargente ha preso un altro stipendio, Il 28 settembre Gianni Sargente ha preso un altro stipendio,